GF VIP, Matteo Diamante ha lo stesso problema di Spinalbase, sto male ecco di cosa si tratta. Al grande fratello VIP è andato in scena qualche dialogo che ha generato numerose discussioni e confessioni imbarazzanti. L'ultimo scoop riguarda la salute intima dei concorrenti e di Antonino Spinalbase e Matteo Diamante. Edoardo Donnamaria, qualche giorno fa, ha rivelato che Antonino prenderebbe delle pillole per un problema di gonfiore intimo. Poi, Matteo ha rivelato a Nikita di avere un problema simile e di star soffrendo molto per questo. Non è stato specificato di cosa si tratti esattamente, ma i sospetti parlano chiaro. Ecco cosa affligge i due concorrenti delle reality show di Casa Mediaset. Foto Credits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsion Italy, Music, Muse from Bensound. Come leggi anche, Antonella è la frase imbarazzante su quel momento intimo con Edoardo, Martina scioccata dalle sue parole. Cosa ha fatto il ragazzo? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Cosa Grazie.